e ciao a tutti ragazzi youtube sono il vostro sermatex 90 qui oggi in questo nuovissimo video sulla nuova close beta di for honor in questo piccolo gameplay ragazzi ora in questo gameplay sono in compagnia di commando nonché mario e di ultimate totem di nonché tony degli attic gaming group ragazzi dove premette è la registrazione di una partita ancora non ho voluto fare una video recensione di questa nuova beta perché ragazzi il 14 febbraio uscirà il gioco ufficiale quindi dovrebbe essere penso una delle ultime dovrebbe essere anzi l'ultima beta prima dell'uscita del gioco e perché non ho voluto fare questo ancora non l'ho voluto fare per il semplice fatto che ancora non l'ho provato bene ecco questa la registrazione di questo gameplay di una della prima partita che ho fatto in questa nuova beta sinceramente l'alpha mi aveva un po deluso sotto certi aspetti quindi prima di dare un giudizio finale vorrei giocarci ancora comunque volevo portare questo video per farvi dare uno sguardo a quello che è attualmente for honor e magari per farvi due risate visto che comunque è una bella partita è anche abbastanza divertente sotto in descrizione ragazzi troverete il video quindi del buon Mario e degli attic gaming group sotto in descrizione facci su un salto perché merita davvero tanto e uscirà anche il video da parte sua quindi da come lui ha visto la partita a breve uscirà anche il video quindi della video recensione una video recensione di questo gioco ecco quindi poi vedremo quindi ragazzi vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi sì ma guarda la gente già quanto ci ha giocato sto gioco c'è già tutti sciuppati di livello maleditti oh l'arciera? sì sempre lui guarda che tristezza ragazzi guardate quanto su figo col mantello a scacchi attacco del figo l'ho personalizzato madonna mi sento quasi comunque pure il cavaliere è figo un botte guarda guarda che posto da vittorioso che c'ho guarda hai catturato la zona c hai catturato la zona c però ci potevano mette un doppiaggio un po più ignorante hai catturato la zona c ma tu tu morirai per mano mia aia no so io che moro pirmano o sta se non so attento ho sbagliato la guardia o gained alla guardia uno ci è disconnesso del bene via via guarda come li mando via madonna guarda un te ignorante signore il pennellungo talito aia 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 o e basta via 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 Corri, 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 cavaliare, corri Se cercherò la vita Da qui non passarà nessuno No, è corso dietro questa con le due spade È velocissima, regà Sono Genoveffo e il barbara Non passerò più su Regà, raggruppa un mese un attimo Ok, cura, mi cura, mi cura Arrivo Arrivo col mio pene lungo a culalti A culalti? Mi scusi, quanto ci vuole per cularmi? Infizzato, vai Madonna, esecuzione Leccia Eh, ho fatto la modalità vendetta Ma mi hai aperto un buco dietro Nell'armatura, perché? Che cosa c'è entrato da lì? Oh, qua c'è il samurai Stupro di gruppo Stupro di gruppo accolta madonna che c'è qui arriva subito arriva sempre nel momento giusto arriva e qui è il corpo finale a sto giro non so stato io e toni allora no io posso fare con il penne lungo me la prendo con voi brutti minion regalo piano 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 questo regalo qualcuno che mi ha dato la mano sua e tu barbaro marrano barbaro divano parco divano un attenzione parata attenzione contrattacco contrattacco di nuovo contrattacco di nuovo contrattacco per le stoffa sedici di contrattacchi ma il menato ma iam l'ha fatto il contrattacco attenzione 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 no riato un altro arrivo toni bravo toni rialzami come si fa rialzare non lo fa fa ok devo mettere un altro di copro ok me non è il stato è bell'amico in qua eccolo no 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 la guardia Ehi tu, Barbaro, sono Genoveffa, dove cazzo credi di andare? No, andiamo alla mano al nostro amico. Ciao, Matek. Nooo! No, dove siete? Stanno arrivando! Era bello perchè sta faccio, sono Genoveffa, dove cazzo credi di andare? Nooo, sono arrivati gli amici, dove posso scendere? Mi ho buttato di sotto! Oh, Tony! Vieni, vieni! Ma a me quello non ce l'ho fatto take down. Spacca la guardia, spacca la guardia! Nooo, ferme, così mi spacca alcuno! Oh, e fa una parata del cazzo, fa qualche cosa! Nessuno tocca Genoveffa! Ho finito la stamina! E dai, dai, non sta par... Wow, mi hanno ammazzato gli Minion, mi hanno ammazzato! I Minion! Dai! Avanti, Barbaro! Oh, possiamo andare a salvare? Oh, forse no! C'è un po' di gente, però! Io ho dispaunato! Oh, questo mi vuole intercettare! Oh, come vuole questo? Rega, c'è da più al menu B o A! Attendo, uno sta caricando! Ho avuto scappo! Eh! Eh, me sta la stupra in trevo! Oh, guarda! Ho capito un cazzo di cattiveria! Non c'ho capito un cazzo! 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 Ma ha spaccato la guardia, questa troia! Sono troppi, sono troppi, sono troppi! Uuuu! Entra di ignoranza... Vedi se mi te l'ha sparata proprio pesante Entra d'ignoranza, entra... Via! Oh, e da, mi ha ammazzato! Guardalo come sa che ascia a terra! Che è sta cosa? Oh, ma sono trappole! Oh! Oh, ci sono le trappole! Perché non... No, perché sei spawnato, ti potevo curare, ma... Eh, non lo sapevo! Vai, attacco mutiplo! Eh, qui tocca liberare, tro... Troppi minion, troppi minion Arte del dildo! Si, l'ha liberato! Cioè, fa morire proprio... Tu ti conviti con gli scudi, poi arriva tipo in bestione, boom, boom, boom Inizia a volare la gente, tipo Bud Spencer Vai, 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 e mo tenuto B, ragazzi, teniamo B, teniamo B Ok Vediamo che fanno loro Eccola, arriva quella con il doppi... Madonna, grazie, bam! Subito una bella doppia briscola Triple abbriscola Quattro abbriscola Oh, lo samurai! Via la testa, via la testa! No, mi ha bloccato l'esecuzione No! E mi ha gonfiato come l'unto Nooo, mi ha fatto l'esecuzione Eeeh! Mi ha bloccato l'esecuzione E mi ha dato tanto di quelle botte E' morto in diretta No, non mi ricordo come si fa a entrare in modalità vendetta Eeeh! E' dei premere con te lo dice il gioco Ah, solo quello, sono un... Regà, ho perso la voce! Stop e morì! Ehm... Per entrare in modalità vendetta Praticamente quando sei incazzato Spingi R E ti entrare in modalità vendetta Ah... Ma io sono sempre incazzato Perché ho mio vento in modalità vendetta Oddio, regà, andiamo più a parlare Mi finirò il video senza voce, regà Ehm... Via, vichingo di merda Vichingo di merda Tocca a te E poi tocca a te E poi te Ma non mi stai colpio a me! Ahahahah! Eh, non lo so Mi era preso un attimo di matto Ammazzato tutti che le dicevo un torno, praticamente Ahahahah! Madonna mia Via Oh, andiamo a prendere A Ma B non ce la dà? A B è nostro, ok Mi serve una manina, non ho vita Vai, vai, vai Regà, mi serve una mano Uh, uh, uh Questo può in tre modalità stronza Eh, con tre modalità stronza Allontanatevi Perché quando in quel modo, regà, fanno male Via Crepa, crepa No, no, no Non me puoi fuggire così Non me puoi fuggire così Ah, mi è fuggito, regà Mi è fuggito Ma tu no, però Da dietro Oh, ma che cazzo fa? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ma guardano Ammazzate il vichingo Ammazzate il vichingo Ma non me corre Ci sono i mignos qui che rompono un cazzo Crepate, stronzi Ma che recupero vita Ammazzate il vichingo Non recupero vita, regà Guarda come li apre Tutti come meloni Oh, l'ho ucciso il vichingo La vorreste rianima, eh Di la verità Di la verità Di la verità Che vorreste rianimare Oh, ma sono troppo Ragazzi Oh, ragazzi Ne mancano due Di loro Non posso arrivare Non posso Sponare Di nuovo Oh, ho perso la testa Ah, è nostro L'hanno rianimato No Ma ando stanno Ma come sta riprendo Di nuovo No, ma come Perché un altro è entrato Mi rianimate se potete Ah, guarda Sono tutte e quattro vive Dai, dai, dai Dai, dai Non le dobbiamo far recuperare, regà Hai catturato la zona Tutti al centro Non andiamo da soli Perché se no Ci scoppiano Eh, faffa Culo, va Puttana No, ma a me Sta a me Sta a man circondato Tutti su Iron Stava arrivando Subì, eh Ahiaia Le preci Madonna Le preci Quanto fanno male Qualcuno Riesce a tirare su Eh, io sono appena responato Ci provo No, sono tantissimi A morti Demicus Ragazzi Stanno a recuperare troppo Al centro Al centro Ti serve una mano Ai, 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 ai A 생각을 Fa un culo Il culé Dai, che c'è il vichingo che è da solo nel mezzo Sii Ma tolla l'esecuzione in diretta Quello non lo rialzate Vai Ma ci amore è morto E mo adesso more pure questa C'è rimasto uno lì Vai 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 Fate finta che siete nel bronzer Picchiatelo di brutto Dai 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 ha da morire Non si può salvare così vai Vittoria E fanno lo sguardo dal sedutore No ma interrotto lo sguardo dal sedutore Molto bene Solo Lo sguardo dal sedutore No ma interrotto lo sguardo dal sedutore